signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale quest'anno lo abbiamo dedicato principalmente al war building e adesso che stiamo andando verso la chiusura della stagione diciamo che tutti gli argomenti principali oramai li abbiamo affrontati sicuramente ci sarà da approfondire questa rubrica ovviamente risalterà fuori nel corso degli anni ma per ora le basi dovreste averle ed è quindi arrivato il momento più divertente per chi come me ha un canale su youtube cioè quello in cui io dico a voi quello che voi dovete fare e non fare ora essendo io una persona estremamente magnanima ho deciso di condividere con un collega questo momento di soddisfazione master che dire sono contento che mi hai invitato di nuovo qui spero che questa volta non ci siano non morti terrasque o chissà cos'altro ok me l'hai promesso non prometto nulla va bene stupidaggini a parte sono davvero davvero contento di essere qui e non vedo l'ora di iniziare con questa sequela di errori ma per chi non lo sapesse io sono il pellegrino ho un podcast a tema gioco di ruolo e scrittura creativa nello specie narrativa prosa questo genere di cose qui e amo il world building alla follia ma letteralmente alla follia quindi tant'è insomma e niente direi che abbiamo parlato anche troppo le presentazioni sono state fatte è ora di riniziare a parlare di errori nel world building allora direi di partire immediatamente con questi questo tema credo che sia uno dei maggiori errori anche tra quelli più sottili che ho visto fare nel world building devo dire specialmente nei giochi di ruolo solitamente per la scrittura è esattamente l'opposto di cosa sto parlando della gestione dei dettagli questo per me è un problema macroscopico mi spiego meglio quando si va a creare un'ambientazione quale che sia la sua grandezza e in influente se dobbiamo creare un'ambientazione cittadina o mondiale in questo senso è proprio una questione di approccio generalmente ci sono due grandi metodi che sono bottom up e top and down ok questi sono i due metodi principali diciamo le due categorizzazioni ovviamente astratte sotto cui si va a inserire la creazione di un mondo nel secondo caso top and down si parte da un imbuto molto largo quindi non solo la genesi del mondo a livello che sia divino scientifica piuttosto che i massimi sistemi mentre bottom up funziona per semplicemente dov'è che sta andando la storia quel luogo e solo quel luogo io vado ad ampliare bene la realtà è che in effetti entrambi i metodi presi puri sono disfunzionali non funzionano al 100% e in questo caso la gestione dei dettagli viene in aiuto appunto nel gdr perché noi da creatori di mondi quando non siamo pronti o meglio quando siamo inesperti purtroppo non solo tendiamo a partire dai massimi sistemi quindi iniziamo a ragionare sui grandi sistemi sociopolitici geografici magici se c'è la magia di tecnologia se c'è la tecnologia che badate bene non è sbagliato di per sé il problema risulta quando ci concentriamo solo su questi a un livello molto profondo ci perdiamo un sacco di tempo e poi i nostri giocatori non li vedranno mai ai nostri giocatori non importa di questo perché perché noi non stiamo costruendo la storia scusatemi l'ambientazione ragionando con negli occhi dei nostri giocatori questo è un problema questo è un grande problema perché sono loro a vivere il mondo noi io lo stiamo solo mettendo in pasto quindi quando creiamo la scelta migliore probabilmente è un misto tra top and down and bottom up dove nel top and down noi ragioniamo certamente sui massimi sistemi ma in modo superficiale per avere un'idea generale dell'atmosfera che vogliamo andare a portare al tavolo mentre sul bottom up quindi sui dettagli sui punti più piccoli quelli che davvero vedranno i nostri giocatori ecco lì noi non dobbiamo perderci lì noi dobbiamo veramente approfondire immaginate quando state creando un mondo dove partiranno i giocatori e iniziate da lì e così piano piano mostrate tutti i piccoli dettagli magari siamo in una città portuale di un porto del nord quindi molto freddo con questa gente con questi lunghi cappotti pesanti incatramati o che so io e questi vascelli nei moli e magari ponete l'accento, ponete l'occhio, l'attenzione su un vascello particolare molto esotico, molto diverso dagli altri e questo dà subito l'impressione che ci sia altro oltre la cittadina portuale del nord che il mondo sia più vasto, sia più profondo magari mettete dei dettagli classici come una canzone non inserita ovviamente se non ne avete le capacità come me per esempio ma diciamo narrata date spazio ai dettagli sono le piccole cose a rimanere davvero legate addosso di un'ambientazione faccio l'esempio di Arda, del Signore degli Anelli insomma della Terra di Mezzo non sono i massimi sistemi a farci vivere Arda e l'erba pipa di Piani Lungone e non so, Casa Baggins sono questi i dettagli che ti fanno sentire davvero l'ambientazione che dire? questa parte sui dettagli direi di troncarla qui ci sarebbe da parlare solo di questo altre mille ore però avete capito perfettamente dove voglio andare a parare sì, anche perché esiste un altro errore estremamente frequente che viene fatto spesso anche questo a volte l'ho visto succedere in opere professionali cioè il fatto di pensare che possa esistere il re del mondo quando andate a progettare le vostre organizzazioni, i vostri governi e andate a inserire i dettagli del war building partite dal presupposto che un'organizzazione qualsiasi organizzazione essa sia lavora su più livelli e ogni livello è strutturato in base al tipo di problematiche che deve andare a gestire il paese, il sindaco del paesino in cui i vostri avventurieri iniziano la questa nella locanda e la giunta comunale, comunque il governo della micro regione sarà strutturato in maniera diversa da quello della regione in cui questo villaggio si trova che avrà il suo signore feudale che gestisce tutta la zona e il governo del signore feudale sarà sviluppato in maniera diversa da quella dell'imperatore che governa l'intero regno, un'intera serie di regni perché ognuna di queste forme di governo hanno a che fare con problemi diversi su scale diverse quello che si vede succedere molto spesso è invece prendere organizzazioni che nella pratica dovrebbero essere incredibilmente strutturate e complesse e ridurle a un singolo individuo o comunque una cerchia ristrettissima di individui come se l'impero che si estende attraverso tre continenti o il governo stellare che si estende per una dozzina di pianeti possa essere effettivamente retto da una singola persona no, semplicemente non sarebbe possibile una persona non riuscirebbe a seguire tutto quello che succede quando progettate le vostre organizzazioni entrate nell'ottica che devono essere stratificate non sono costituite da un unico PNG o una serie di PNG che in realtà sono tutti identici tra di loro e la pensano tutti alla stessa maniera anzi, più un'organizzazione è grande più ci saranno correnti di pensiero al suo interno e non necessariamente tutti i membri di un'organizzazione sono d'accordo con tutto quello che fa l'organizzazione e potenzialmente non sono neanche amichevoli al loro interno questo potrebbe portare a delle situazioni che i vostri avventurieri potrebbero sfruttare potrebbe portare a contrasti interni sull'organizzazione cosa succederà nel dettaglio dipende dal tipo di storia che state raccontando però entrate sempre nell'ottica che le organizzazioni a qualsiasi livello siano sono formate da persone diverse e non tutti fanno la stessa cosa o la pensano allo stesso modo bene adesso un punto davvero interessante che veramente ogni volta che viene espresso va bene, dicevamo le guerre, signori miei si combattono sempre e solo per motivi economici già e potrei finirla qui però entriamo un attimo nel pieno della cosa capiamo un attimo cos'è una guerra una guerra è una spesa ingentissima di risorse su ogni aspetto dalla mera pecunia alle vite umane che vengono tolte anche risorse di equipaggiamento anche risorse tecnologiche e in guerra che vengono tirate fuori le maggiori tecnologie noi ne abbiamo milioni di esempi internet stesso dove state vedendo youtube nasce come tecnologia di guerra quindi signori miei eh si combattono le guerre solo per motivi economici facciamo altri esempi quando due imperi vanno a collidere abbiamo in campo un'enorme quantità di vite umane un'enorme quantità di equipaggiamenti tecnologie soldi investiti persone quei soldati che vengono tolti da una data famiglia magari dei contadini e storicamente nel passato i coscritti altri non erano che villani con armi di fortuna più o meno messi in prima fila quasi come carne da macello o meglio diciamo che affrontavano l'esercito nemico al meglio delle loro possibilità però questo significava togliere contadini l'unici ecco gli unici che e questo fa tanto capire gli unici che non vengono mai toccati sono i grandi artigiani a livello bellico per esempio i fabbri non andavano in guerra ma neanche i maestri d'arme andavano in guerra perché i maestri d'arme dovevano insegnare le reclute l'esperienza non la puoi insegnare da zero quindi hai bisogno di qualcuno che ce l'abbia e torniamo al discorso che le guerre sono fatte sempre per motivi economici magari è l'annessione di nuovi territori perché voglio estrarre risorse particolari che si trovano lì o perché voglio tassare nuovi territori perché mi servono maggiori entrate generalmente principalmente per le risorse perché magari in quel dato territorio ci abbiamo dei giacimenti di risorse particolari o di più facile accesso e quindi io stato x più potente di stato y decido di dire ok quello è mio ma guarda veramente è mio no e lì parte la guerra quindi i motivi della guerra sono sempre di stampo economico potremmo dire e questo è un dettaglio non da poco se ci pensate perché spesso vediamo queste grandi guerre nei libri film fantasy fantascientifici o comunque fantastici che non hanno motivo d'essere sono letteralmente solo uno spreco di risorse capite perché per dare profondità a un'ambientazione bisogna dare profondità alle sue motivazioni uno stato ha delle motivazioni per entrare in guerra sempre non si fanno guerre boh perché sono forte forte che vuoi essere hai delle perdite e le perdite nessuno vuole averle quindi date delle motivazioni alle vostre guerre a cosa puntano i vostri stati cos'è che vuole l'impero orchesco l'orda orchesca cos'è che vuole il grande signore del male cattivone dei cattivissimi dal regno dei buoni buonissimi questo è importante trovate sempre delle buone motivazioni per dare una solidità maggiore alle vostre ambientazioni altra questione che molto spesso viene ignorata in favore della rule of school mettiamola così è che le persone anche i png hanno dei bisogni primari che devono essere considerati prima di qualunque altra questione in parole povere la gente deve mangiare prima di poter fare qualunque altra cosa bellissima l'idea della città costruita su una montagna volante che naviga nel cielo ma una città per funzionare deve avere dei mezzi di sostentamento e un qualche tipo di industria deve avere accesso a territori coltivabili deve avere accesso a risorse le città non vengono costruiti in posti a caso perché alla gente piaceva lì il paesaggio vengono costruite e si espandono in base alla disponibilità di materie prime che quella città possa lavorare di risorse agricole che quella città possa sfruttare come detto la gente deve prima mangiare per poter poi fare qualcos'altro non necessariamente devono trattarsi di risorse fisiche una città potrebbe essersi sviluppata all'incrocio di due strade perché da lì passa un grande commercio o magari lungo un fiume o nella parte più protetta di una baia dove quindi le navi mercantili possono arrivare a traccare in sicurezza magari una città inizialmente molto piccola che era vicina a un tipo di risorsa limitata nel tempo con l'introduzione di nuove risorse o il cambiamento della situazione economica o politica che rende quella risorsa particolarmente limitata molto più preziosa o molto meno preziosa potrebbe spandersi o contrarsi molte città che sono state costruite vicino alle miniere di carbone adesso che il carbone è una risorsa che sta venendo sfruttata sempre meno perché è energeticamente insufficiente per i bisogni della nostra società contemporanea stanno perdendo moltissima popolazione a favore di città in cui ci sono centri di produzione o magari sono famose per la qualità delle loro infrastrutture informatiche che potrebbero attirare ditte ad aprire sedi lì e quindi gente a trasferirsi lì per lavorare questo ovviamente non vuol dire che non possono esserci città insediamenti in luoghi particolarmente esotici ma vuol dire che un insediamento in un posto eccezionale ha bisogno nel world building di giustificazioni eccezionali per essere lì questo questo è davvero presente sempre sempre ragazzi le cose utili tecnologia magia risorse qualunque cosa viene utilizzata sempre lo abbiamo visto succedere costantemente le cose utili vengono sempre utilizzate immaginate di avere questi grandi stati che hanno la tecnologia perfetta vi aspettate davvero che questa tecnologia non arrivi diciamo a dilagare perché non dovrebbe e non è perché ci sono sette segrete che le nascondono assolutamente no perché una volta che abbiamo preso confidenza con quella tecnologia uno stato la fa spargere perché un popolo che è aiutato da una tecnologia è un popolo più produttivo un popolo più produttivo è un popolo che paga più tasse più tasse più soldi e come abbiamo detto prima per le guerre è tutta una questione economica ricordatevelo questo quando inserite la magia nel vostro mondo pensate immediatamente a quelli risvolti quotidiani ci sono sempre come la magia per esempio del fantasy cambia il mondo come la tecnologia super avanzata può cambiare il suo mondo pensate sempre a questa cosa è davvero importante crea delle ambientazioni molto interessanti non è il semplice io studio una magia sparo palla di fuoco cosa vuol dire sparare palla di fuoco in un mondo all'AD&D gli eserciti che cosa ci sono a fare gli eserciti intendo di guerrieri normali dei maghi che ti possono castare palla di fuoco su degli uomini in armatura e soprattutto i reggimentati in quel modo che avanzano in quel modo dai cioè rendetevi conto cosa è importante questo però attenzione non significa creare dei sistemi per cui siamo realistici al 100% sarebbe una follia totale una cosa del genere interessante come esercizio forse ma una follia totale a parte presupporrebbe avere delle conoscenze così vaste in così tanti campi diversi che non dico che è impossibile ma beh quasi però capiamo un attimo un conto è non entriamo troppo nel realismo a fare le cose perfette un conto invece è non pensare proprio di fare questa cosa è qui che viene la perdita di un'occasione potentissima allora volete giocare al vostro mondo fantasy canonico alfinani il solito mondo diciamo lo stereotipo del mondo fantasy e magari ci mettete del vostro ci mettete qualcosa di anche interessante magari una razza nuova o altro e inserite un tipo di magia particolare un tipo di tecnologia particolare o altro del genere questo ragionateci potrebbe rendere il vostro mondo assolutamente iconico potrebbe dare ai vostri giocatori un mondo estremamente nuovo per farlo basta farsi delle domande come impatterebbe questo elemento in un mondo fantasy come il mio se io addomesticassi i draghi cosa vorrebbe dire o magari se ci in D&D ci sono moltissime creature come posso sfruttare quelle creature abbiamo addestrato ogni tipo di animale sul nostro pianeta e non abbiamo poteri magici quindi capite che c'è questa cosa per noi è fondamentale secondo me è qui che dovremmo andare a rendere iconico un mondo sono questi piccoli dettagli che fanno il mondo vero è un po' quello che dicevamo nel mio primo intervento i dettagli sono fondamentali per avere un dettaglio profondo bisogna ragionare su molti aspetti uno di questi è come impattano le cose utili una grande tecnologia una magia interessante non saprei delle creature magiche interessanti tutti questi aspetti vanno a rendere il nostro mondo più vero più potente più vivo più iconico più iconico e questo secondo me è una cosa davvero fondamentale da capire bene con questo possiamo dire anche di aver finito per ora bene finalmente abbiamo finito questi cinque errori sono contento di essere qui come ho già detto e sono contento di poter ricambiare l'ospitalità del master portandolo nel mio podcast di nuovo sì ovviamente credo che sia molto molto interessante questo tipo di collaborazioni mi piace molto vedere più punti di vista osservarci scambiarci opinioni anche nel backstage quello che voi non vedete soprattutto e niente facciamola a breve dove trovate il mio podcast beh lo trovate su spotify su apple podcast sul google podcast su overcast insomma lo trovate davvero lo trovate dovunque tranne che su spreaker per il momento e su youtube youtube ci sto lavorando però non è cioè non ha il momento vuole farmi concorrenza per la prossima parte per la seconda parte di questi errori vi invito a seguire il podcast la puntata in sé bene master io saluto anche te che devo scarpare a preparare la postazione di podcasting sto scherzando è vero vabbè e niente che dire davvero grazie ancora grazie a te per essere venuto vi saluto col mio motto con la mia chiusura come al solito ci vediamo anzi ci sentiamo al prossimo crocevia io invece come sempre sono il master cae e se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è venuto a crescere il canale se avete domande dubbi perplessità come sempre lasciate un commento nell'area qui sotto iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche per i prossimi video e noi ci rivediamo nel podcast del pellegrino in cui parleremo delle prossime cinque cose che non dovete fare ciao